Un programma di investimenti finanziato con 20 milioni di euro dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del programma operativo complementare 2014-2020. Un progetto avvenzioso con l'obiettivo di creare un parco scientifico caratterizzato da un alto gado di innovatività tecnologica per la sperimentazione e l'applicazione di soluzioni intelligenti per la gestione dei servizi urbane e delle imprese del territorio. Nasce a Messina l'AIUB, un accordo tra amministrazioni pubbliche per accelerare la progettazione degli interventi di rigolificazione dell'aria e dell'allestamento tecnologico dei padiglioni destinati alla ricerca applicata e ai sistemi imprenditoriali e finanziari ad un alto valore aggiunto. Ieri una riunione tecnica a Palazzo Zanca tra l'amministrazione comunale Università di Messina, autorità portuale, con lo scopo di costruire un modello per rafforzare la rete dell'innovazione digitale e creare strette interrelazioni tra ricerca e impresa, innovazione e amministrazione pubblica per attrarre investitori a livello internazionale che intendano attraverso un partenariato pubblico-privato scommettere l'ambito dell'AIUB dello stretto, un progetto che ha già suscitato notevoli interessi e che è stato presentato in ambito internazionale in diverse piattaforme.